Il fatto della pubblicità, buonasera a tutti, dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la webdb della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione del PNRR, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame del DL 124 del 2023. Recante disposizioni urgenti in materia di politica di coesione per il rilancio dell'economia e le aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Segnaro preliminarmente che l'audizione dovrebbe concludersi entro le ore 16 e 25, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori. Invito i rappresentanti di ciascun gruppo a comunicare alla Presidenza, prima della conclusione dell'intervento del Ministro, i nominativi dei deputati del proprio gruppo che intendano intervenire. Do la parola al Ministro Fitto, che ringrazio già da adesso per la disponibilità che continua a darci. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi presenti. Cercherò in questa mia introduzione di non essere molto lungo nell'esposizione perché penso che sia più opportuno magari anche dare la possibilità, visto i tempi individuati, di poter discutere e quindi magari ascoltare anche più sollecitazioni in questo senso. Prima di entrare nel medio del decreto posso dire di aver seguito indirettamente tutte le audizioni e quindi anche rispetto a tutti i contenuti emersi delle audizioni, al di là del momento ma anche successivamente ci sarà la possibilità eventualmente di evidentemente dare dei chiarimenti o comunque di raccogliere dei suggerimenti perché ritengo che sia molto importante anche ascoltare le proposte che vengono rispetto all'iniziale valutazione che il Governo ha fatto rispetto a questo tema. Il decreto legge si inserisce in un percorso che il Governo ha avviato dall'inizio della legislatura che abbiamo anche in questa Commissione discusso più volte, penso in modo particolare anche alle prime scelte che il Governo ha messo in campo, la relazione sullo stato di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse 2014-2020. L'obiettivo che il Governo ha messo in campo è il Presidente del Consiglio in modo particolare, individuando quello che per il Governo rappresenta una strategia di una visione unica e positiva, cioè quella di aver coordinato delle deleghe che svolgono una funzione molto importante che sicuramente rappresenta anche l'opportunità di evitare sovrapposizioni rispetto anche all'utilizzo delle risorse ma anche un'interlocuzione con le istituzioni europee in modo particolare con la Commissione europea. Lo voglio ricordare perché prima della pausa estiva le ultime raccomandazioni della Commissione europea indicano agli Stati membri la necessità, opportunità di coordinare le risorse della coesione con quelle del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza e lo voglio ricordare perché il Governo invece l'ha fatto ad inizio di legislatura e ha rappresentato questa è una scelta che ha sostanzialmente anticipato anche una linea di tendenza che a livello europeo è emersa e che penso rappresenti un elemento molto positivo per un Paese come il nostro che ha il più grande Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza ed è tra i principali Paesi beneficiari della politica di coesione e quindi aver individuato in questo ambito un coordinamento di diversi programmi rappresenta sicuramente una delle questioni fondamentali rispetto alle scelte che dobbiamo portare avanti. In questo contesto come dicevo le scelte fatte nei mesi scorsi sono collegate, sono dei pezzi di un ragionamento complessivo, penso appunto al monitoraggio fatto sull'utilizzo delle risorse pregresse, alla riorganizzazione della governance del PNRR insieme a quella dell'Agenzia delle coesioni in un decreto legge che ha previsto al suo interno anche una serie di norme importanti sul fronte della semplificazione, alla conseguente scelta che il Governo ha messo in campo dal punto di vista del rimodulazione e raccordo anche sulle proposte messe in campo dell'utilizzo delle risorse tanto del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza quanto delle risorse della coesione, al tema collegato al Sud non fosse altro perché evidentemente la gran parte delle risorse soprattutto della coesione, del Fondo di Sviluppo e Coesione impattano come è noto nelle aree del Mezzogiorno Italia in modo particolare e quindi certamente questo tema è un altro elemento, un altro pezzo del ragionamento che il Governo ha messo in campo. In questo contesto quella visione alla quale facciamo riferimento ha trovato appunto nel decreto legge di riorganizzazione della governance un primo momento importante e ha evidenziato anche con il decreto di cui oggi noi ci occupiamo un altro passaggio altrettanto importante perché questo decreto si occupa di diverse questioni fondamentali all'interno della strategia della coesione e anche e soprattutto all'interno di quelle che sono le scelte fondamentali per immaginare degli elementi di sviluppo di questo territorio anche alla luce del fatto che si inizi a mettere in campo un raccordo operativo dell'utilizzo delle risorse tanto appunto della coesione quanto del PNRR. Il decreto sostanzialmente affronta cinque questioni, la prima è quella relativa alla riorganizzazione, la fase conclusiva della riorganizzazione della coesione, il Ministero della coesione ha attivato dopo degli incontri in conferenza Stato-Regioni un tavolo con ogni singola regione, abbiamo messo in campo due livelli di intervento, il primo quello della verifica e il monitoraggio delle risorse della programmazione del 2014-2020 per andare a verificare lo stato dell'arte, anche alla luce del monitoraggio al quale ho fatto riferimento che il Governo ha messo in campo ad inizio della legislatura e l'abbiamo fatto sulla base anche di una verifica dello stato d'avanzamento dei progetti, dell'utilizzo delle risorse e anche della tempistica collegata all'utilizzo di queste risorse. In questo contesto quello che è emerso in modo molto chiaro è la necessità di invertire il meccanismo di interlocuzione, tanto lo voglio sottolineare perché spesso ascolto criticità in questo senso, tanto con le amministrazioni centrali dello Stato quanto con le regioni, perché è in corso analogo lavoro con le amministrazioni centrali dello Stato, quindi non è che noi stiamo svolgendo un monitoraggio esclusivamente collegato all'azione delle regioni, lo stiamo facendo tanto con le regioni quanto con le amministrazioni centrali e questo verifica e questo monitoraggio che si competerà quanto prima e definirà la possibilità di chiudere gli accordi di coesione che sono previsti nell'ambito di questo decreto. L'accordo di coesione, lo voglio illustrare rapidamente, poi magari torneremo nel merito a fronte di richieste di chiarimento, sostanzialmente inverte un meccanismo che, piaccia o non piaccia, la percentuale della spesa di queste risorse ci indica come obbligatorio, cioè evitare di assegnare ad un'amministrazione centrale anziché ad una regione un importo di risorse e verificare dopo n anni quello che è successo. Noi invertiamo il meccanismo e quindi definiamo un percorso che è quello di definire con la regione interessata o con l'amministrazione centrale interessata gli interventi da realizzare, far sì che questi interventi diventino un impegno tra le amministrazioni, in questo caso centrale e regionale rispetto alla possibilità di utilizzare queste risorse nei tempi previsti e sulla base delle proposte che vengono fatte dalle amministrazioni centrali o dalle regioni a secondo della questione di cui ci occupiamo, del programma di cui ci occupiamo, sottoscrivere un accordo di coesione tra la regione e il governo, tra la regione e l'amministrazione centrale a secondo se le risorse del fondo di sviluppo di coesione sono centrali o regionali per individuare delle soluzioni che affrontino le criticità emerse nella fase di monitoraggio. Quali sono le criticità, quelle più rilevanti, la capacità di spesa, evitare una frammentazione degli interventi, individuare la strategicità delle opere sulla base delle proposte che vengono fatte appunto dalle amministrazioni proponenti. La sintesi di questo può essere indicata in una prima iniziativa che si è già conclusa perché abbiamo già sottoscritto dopo l'approvazione del decreto il primo accordo di coesione in Liguria, lo ha sottoscritto il Presidente del Consiglio col Presidente della regione, è stato un accordo frutto della proposta della regione che ha visto un tavolo presso il Ministero della Coesione con la regione che ha proposto gli interventi e tutte le amministrazioni centrali che hanno partecipato in base alle loro competenze e quindi ai loro ambiti di intervento e sulla base di questa proposta si è definita l'accordo di coesione. Nel frattempo, prima della pausa estiva, il Governo ha approvato una delibera CIPES che prevede l'imputazione delle risorse alle regioni per la quota regionale, quindi anche qui le risorse sono state imputate da ogni singola regione, quindi non c'è nessun territorio, ma non perché lo dico io qui oggi, perché c'è un atto che lo testimonia e lo conferma, quindi diciamo che nel quale atto devo dire c'è stata anche una valutazione nelle sedi competenti, chiaramente io non inseguo poi il dibattito fuori dalle sedi competenti, però tanto in conferenza quanto nel CIPES il parere da parte di tutti i partecipanti è stato favorevole, questo lo voglio sottolineare. A questo è seguita una seconda parte che è quella relativa alla capacità di definire gli interventi con un cronoprogramma che individua sia la parte temporale che quella finanziaria, per evitare di ritrovarsi rispetto all'utilizzo di queste risorse con una incertezza senza responsabilità e senza una definizione di questo tipo di percorso. Questo ha comportato appunto e comporterà un livello di responsabilizzazione e di chiarezza di fronte agli impegni che si assumono, anche qui non c'è un rischio di definanziamento, esattamente il contrario. Primo perché la sottoscrizione dell'accordo di coesione è determinata dalla proposta che viene fatta, quindi non c'è nessuno che obbliga qualcuno a sottoscrivere l'accordo di coesione, ma se il Presidente della Regione o il Ministro dell'Amministrazione dell'Interestate sottoscrive un'intesa nella quale si assume l'onere di dire garantisco per la realizzazione di questi interventi in questa tempistica, in quel momento ha assunto un impegno e la previsione sul fronte del rischio di definanziamento è conseguente all'eventuale incapacità di mantenere un cronoprogramma che si propone e che si condivide. Questo lo voglio sottolineare perché è un altro aspetto che secondo me è necessario evidenziare in modo molto chiaro. A questo aggiungo anche un altro elemento molto importante che è quello che tra la firma dell'accordo di coesione e l'approvazione della delibera CIPES che assegna concretamente le risorse, i contenuti dell'accordo di coesione possono intanto partire, quindi non c'è nessun ritardo e non c'è nessun tempo perso su questo. È un altro aspetto, elemento molto importante e lo voglio sottolineare questo perché siamo in una fase nella quale con tutte le Regioni abbiamo il tavolo bilaterale aperto, stiamo verificando lo stato dell'arte per le risorse 2014-2020 e devo dire che dopo aver sottoscritto l'accordo con la Regione Liguria penso che da qui al 31 dicembre se si rispetterà, ma questo non dipende solo dal Ministero della coesione ma dipende da tutto il lavoro che si porterà avanti, si potranno sottoscrivere tutti gli accordi di coesione tant'è che molti sono già nella fase di definizione che prevede il completamento e la verifica delle risorse 2014-2020, la proposta degli interventi sulla programmazione 2021-2027 e in quel contesto anche l'assunzione con la sottoscrizione della firma dell'accordo di coesione della responsabilità rispetto all'utilizzo di queste risorse. Il secondo punto molto importante anche per una serie di ragioni è stata una scelta che il Governo ha voluto fare individuando nell'ambito dei fondi di sviluppo e coesione delle risorse pari a 45 milioni di euro per un intervento specifico sull'isola di Lampedusa che ha avuto un impatto e ha un impatto molto problematico. L'obiettivo del Governo è individuare un piano di compensazione per poter realizzare tutta una serie di infrastrutture che consentano a quest'isola di recuperare questo problema che oggi ha e quindi cercare di rimetterla dal punto di vista degli interventi, dal punto di vista del punto di vista infrastrutturale, nelle condizioni di poter avere questo intervento di compensazione. Anche qui è previsto un tavolo di confronto con il Sindaco, con l'assistenza di Invitalia, con il Presidente della Regione e con i ministeri interessati. Il terzo punto è quello che riguarda le aree interne. Anche qui vorrei provare a dare degli elementi di chiarezza. Non è mai esistito nel nostro Paese una norma che abbia riguardato le aree interne dal punto di vista legislativo. Non si tolgono le competenze a nessuno. Si individua nella logica della strategia per le aree interne che era prevista nel programma di coesione dell'accordo sottoscritto nella presente legislatura, si individua uno strumento legislativo che per la prima volta norma le modalità di scelta, selezione, proposta sui temi delle aree interne che come è noto riguardano una grande area della popolazione italiana, i tantissimi piccoli comuni interessati che hanno un problema in modo particolare sul fronte dello spopolamento e la necessità di mettere un programma in campo dal punto di vista anche dell'uso e delle risorse che possa puntare ad una risposta in questa direzione con infrastrutture e servizi che siano in grado di poter valorizzare questi elementi riducendo questo rischio di spopolamento e quindi rafforzando le aree interne. Per ragioni di tempo anche su questo non entro nel dettaglio perché sono altri punti sui quali ancora devo parlare però posso dire che in questa direzione anche qui è previsto un ruolo in coinvolgimento di tutti gli attori e protagonisti e soprattutto l'idea di mettere in campo una strategia su questo ambito rappresenta un'occasione molto importante per avere su una parte del Paese che spesso è stata considerata una generentola una strategia mirata sia dal punto di vista degli abitanti che vivono questi luoghi sia dal punto di vista degli interventi e degli investimenti che devono caratterizzarli. In questo contesto è importante anche qui sottolineare il tema della cabina di regia che prevede un confronto e una partecipazione sia alle scelte che alle soluzioni di regioni, province, comuni e delle comunità montane laddove intervengono e insistono in queste aree ancora perché ci sono aree nelle quali questo non sono strumenti più previsti. C'è la necessità così come sulla coesione anche su questo di coordinare gli interventi in parte previsti per alcuni ambiti di intervento nella missione 5 del piano nazionale di ripresa e resilienza sulla quale nella componente 3 sono previsti gli interventi delle strutture sanitarie di prossimità e della misura del potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali per poter andare nella direzione di sostenere un intervento in questa direzione raccordandolo con le risorse e le politiche della coesione e del fondo di sviluppo e coesione. Un altro punto importante che io ritengo molto qualificante di questo decreto affronta un nodo sul quale si è sempre parlato e si è molto poco realizzato, del tema del potenziamento della capacità amministrativa. Il governo ha in un confronto con la Commissione europea colto l'opportunità di un programma europeo interamente finanziato dalla Commissione europea il CAPCOE, capacità della coesione, che sostanzialmente prevede l'assunzione di 2200 funzionari da qui al 2029 a tempo indeterminato, interamente retribuiti con queste risorse che andranno a sostenere con questo riparto 71 funzionari in capo allo Stato, 250 in capo alle regioni, 1674 in capo ai comuni, 70 in capo alle città metropolitane e 135 in capo alle province. Mi sembra che sia una risposta importante che si inserisce in una delle richieste che sono sempre emerse in tutti i contesti e tutte le occasioni di potenziamento della capacità amministrativa da parte soprattutto dei comuni e questa è una risposta concreta, peraltro cogliendo una opportunità che è quella appunto di un programma europeo almeno fino al 2029 e chiaramente poi subito dopo il 2029 le amministrazioni che ne beneficiano devono essere in grado di prevedere da qui al 2029 le modalità per poter coprire queste spese. Ultimo punto del provvedimento è quello della zona economica speciale, qui è evidente che partirei da una considerazione innanzitutto di raccordo tra i diversi programmi di intervento, lo dico in modo particolare anche perché nella proposta di rimodulazione che abbiamo fatto sul piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo proposto un miliardo di euro da assegnare in questa direzione e questo è già un primo elemento importante ed è evidente che anche dal punto di vista dell'utilizzo delle altre risorse e le altre fonti di finanziamento il tema della zona economica speciale rappresenta nella sintesi di diversi programmi un momento importante e io dico molto qualificante. Faremo una premessa di carattere generale, l'obiettivo della zona economica speciale è stato perseguito nel confronto con la Commissione europea, nella fase precedente della pausa estiva e nell'ultimo incontro con la commissaria Vestager è stato sostanzialmente dato un via libera da parte della Commissione europea anche con un comunicato congiunto da parte della Commissione che vorrei ricordare autorizza un'area che è una delle più grandi al mondo dal punto di vista delle zone economiche speciali così come viene immaginata e che si inserisce in un contesto nel quale, mi permetto di fare alcune riflessioni che sono magari differenti rispetto ad alcune criticità che pure sono state indicate, che è quello di collocare questa grande area, questa grande zona economica speciale nel Mediterraneo, di coglierla come una grande opportunità per l'attrazione dei grandi investimenti stranieri e italiani, di sostenere il sistema delle nostre piccole e medie imprese, di valutare rispetto alla Polonia anziché all'Irlanda, al Portogallo ma al Marocco, ad altre aree del mondo qual è l'impatto e il livello di confronto sul tema delle zone economiche speciali, di individuare anche rispetto a questa azione un sistema che possa accompagnare anche nella definizione degli interventi sul fronte infrastrutturale della programmazione, della coesione, dello fondo di sviluppo e coesione, oltre alle risorse del PNRR, un programma di interventi che guardi in modo specifico alla capacità di superare alcuni gap infrastrutturali che rappresentano dei limiti enormi in questa direzione. Questa è una premessa importante che mi sento di fare come dato generale perché interveniamo in un'area che si rivolgerà a tutte le otto regioni del Mezzogiorno d'Italia e quindi la dimensione della scommessa, della sfida e dell'opportunità, la portata della scelta che viene messa in campo è assolutamente rilevante sotto diversi punti di vista e rappresenta certamente anche nel confronto con il resto del contesto esistente un modello completamente alternativo. Io ascolto una serie di termini di paragone, diciamo le otto ZES sulle quali poi se necessario si può intervenire nel merito per andare a verificare un po' tutto quello che si ascolta ma che secondo me è anche importante definire dal punto di vista dei risultati raggiunti, del numero dei progetti delle autorizzazioni uniche approvate, dell'ambito nel quale si sono rivolte, dell'impatto che la ripremetazione proposta aveva, del valore dei terreni all'interno di una ZES rispetto al valore del terreno fuori dalla ZES, della proposta che veniva fatta rispetto all'allargamento di una ZES scavalcando alcune aree e arrivando in altre aree. C'è tutto un tema che secondo me con questa proposta non solo crea le condizioni per poter giocare una partita di grande rilevo per il Mezzogiorno d'Italia mettendo in campo strumenti che sono quelli della semplificazione, dell'autorizzazione, delle opportunità fiscali e anche della realizzazione di un quadro infrastrutturale che abbia una visione d'insieme dell'intero Mezzogiorno d'Italia nel contesto del Mediterraneo perché questa è la partita che l'Italia deve giocare e che l'Italia vuole giocare in questo contesto e lo dico perché è anche frutto degli accadimenti geopolitici a livello internazionale perché le grandi questioni che sono esplose negli ultimi periodi e che hanno cambiato completamente l'impatto penso al tema dell'invasione dell'Ucraina e hanno spostato totalmente la strategia e l'azione e il ruolo dell'Europa verso un'altra area. Il tema del dialogo e della presenza nel Mediterraneo diventa centrale, l'opportunità in termini di risorse e materie prime nel dialogo e nell'interlocuzione con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo è strategico, avere all'interno del mezzo di questa questione, di questa grande opportunità un'area così vasta con questi strumenti rappresenta dal nostro punto di vista una opportunità che dobbiamo cercare di cogliere. So che un tema di interesse è quello dei costi, questo provvedimento ha un costo dal punto di vista della struttura inferiore di un milione e mezzo di euro rispetto al costo delle otto ZES, ho sentito anche alcune dichiarazioni su nessun costo della ZES, è vero perché paga Palazzo Chigi però, lo voglio ricordare che la presenza del Consiglio paga per intero la quota dei 9 miliardi 770 milioni di euro che sono le quote del costo dei commissari di tutte le strutture, siano essi consulenti, esperti o funzionari di staccato in questo contesto, quindi anche questo è un tema, il costo dei 9 miliardi 760 milioni di euro si riduce di un milione e mezzo rispetto alla previsione iniziale con questa struttura, quindi come abbiamo fatto con il decreto sulla governance, dove nella riorganizzazione dell'agenzia della coesione, nella organizzazione della struttura di missione dedicata alla gestione del PNRR abbiamo ridotto i costi, fatto 100 il costo complessivo del provvedimento, c'era un risparmio anche in quella circostanza, anche in questo caso il risparmio è di un milione e mezzo di euro all'interno della dimensione dei costi previsti, abbiamo la dimensione, la previsione, tutto quello che c'è all'interno delle previsioni appunto delle attuali ZES e quindi questo è verificabile dal punto di vista anche dei numeri. A questo aggiungo anche un altro tema che è stato oggetto di discussione, è come se il governo togliesse la responsabilità ai territori, il commissario della ZES fino ad oggi è stato nominato dal governo, l'intesa con i presidenti di regione e la norma prevedeva che nel caso in cui non ci fosse l'intesa lo faceva direttamente il governo, giusto per ricordare quello che le norme precedenti indicavano e lo voglio dire anche per un altro aspetto che è rilevante in questo contesto, cioè la nomina del commissario è una prerogativa del governo, il governo non ha appena si è insediato, fatto quello che magari auspicabilmente si diceva, cioè cambiare la nomina dei commissari, un atto assolutamente legittimo rispetto alle previsioni normative, ma ha ritenuto di lasciare le cose come stavano perché era necessario capire bene qual era la valutazione, non c'è un'azione per sostituire gli otto commissari perché avremmo potuto farla un anno fa, appena insediati, potevamo cambiare i commissari senza nessun problema. Abbiamo fatto una valutazione diversa, qui non siamo in presenza di un ragionamento sulla nomina, qui siamo in presenza di un ragionamento sulla strategia, quindi io vi invito tutti quanti se possibile a fare un ragionamento, uno sforzo di altro genere e quindi questo rappresenta anche un messaggio molto importante dal punto di vista di una serie di altre questioni che sono collegate alle scelte, è evidente che ci sono dei problemi che sono stati sollevati, che vengono sollevati rispetto alle aree, se così possiamo dire, di confine, ma è chiaro che noi abbiamo su questo il tema della coerenza con la carta degli aiuti a livello europeo, non possiamo immaginare meccanismi differenti in questo contesto, quindi ne parliamo, ma voglio dire a chi dispiacerebbe se fosse possibile allargare un po', ma c'è un tema che non ce lo consente da una parte e dall'altra è che con questa individuazione che è un criterio autorizzato a livello europeo ci sarebbe sempre un confine, nel senso che se fosse possibile, non lo è, allargare la ZES di una provincia o di un ambito territoriale ci sarebbe sicuramente il successivo che si candiderebbe automaticamente e ragionevolmente ad ambire la stessa cosa, ma purtroppo i criteri non sono questi e i criteri che dobbiamo utilizzare sono criteri oggettivi che ne derivano anche in conseguenza della valutazione della decisione fatta a livello europeo. Un altro aspetto che voglio toccare è quello collegato alle risorse, a me non sembra che ci sia, perché sento dire sì è stata finanziata solamente per il 2024, intanto la finanziamo per il 2024 perché chi c'era prima ha previsto di finanziarla per il 2023, cioè partiamo da questo caso, se no non ci sarebbe stato il problema di finanziarla per il 2024, questo è un primo tema importante e nella riorganizzazione delle politiche di intervento che stiamo mettendo in campo il finanziamento non sarà previsto solamente per il 2024, ma dovrà riguardare anche alcuni aspetti, ne cito uno in particolare che è quello sulla decontribuzione al Sud che in questo periodo siamo in fase di confronto con la Commissione europea che sta per decidere cosa fare sulla procedura relativa al temporary framework, cioè le misure messe in campo per dare una risposta più agevole all'invasione dell'Ucraina, aspetteremo questo perché il testo che oggi noi abbiamo è che questo governo lo scorso novembre ha contrattato con la Commissione europea non per sei mesi ma per 12 mesi, quindi per tutto il 2023, potrebbe essere oggetto di una modifica, nel senso che se sarà prorogato il temporary framework per il 2024 abbiamo la possibilità di poter utilizzare lo stesso meccanismo legislativo concordato e notificato con la Commissione europea. Nel caso in cui non dovesse essere possibile questo perché la Commissione europea dovesse decidere di non prorogare il temporary framework abbiamo i prossimi mesi per andare a ricontrattare una misura che sia compatibile con le previsioni differenti che devono essere appunto condivise, ma la strategia del governo è assolutamente quella anche su questa misura di intervenire. Si allarga il credito di imposta rafforzato dalle zone ZES all'intera area del territorio interessato, questo mi sembra che sia un elemento molto importante, si conferma il tetto massimo dei 100 milioni, se ne stabilisce uno dei 200 mila euro, ma vorrei ricordare come tetto minimo che questo non solo è stabilito in coerenza dal punto di vista tecnico anche con il regime del de minimis, ma è anche sommabile, cumulabile con quanto previsto dagli altri misure del regime di aiuti e questo penso che rappresenti un'opportunità che risolva anche in radice la questione. Poi c'è un tema collegato alle autorizzazioni uniche che ci sono state fino ad oggi, anche questo va ricordato, sono 121 in tutte le 8 ZES. Quindi non è che stiamo parlando di una dimensione per la quale ci troviamo di fronte a dei numeri che sono numeri eccezionali, sono dei numeri sui quali riflettere e cercare di capire quali sono le modalità, le tipologie per mettere in campo un meccanismo di una strategia che rafforzi queste condizioni, che crei le condizioni per poter raggiungere dei risultati differenti. A questo contesto aggiungo un'ultima considerazione sul tema del coinvolgimento, il tema anche qui della cabina di regia, della strategia che mettiamo in campo, consentirà anche di fare quella valutazione specifica settore per settore rispetto anche alle peculiarità di ogni territorio, perché è chiaro che il vestito non può essere fatto su misura uguale per tutti, ma magari in alcune aree si potrà, proprio d'intesa con le regioni e con i territori, mettere in campo delle strategie di intervento che vadano in questa direzione. Ecco, questo è, e mi scuso se alla fine forse sono andato anche un po' lungo, la sintesi dei contenuti del decreto, ma che sono, ritengo, abbastanza rilevanti ed importanti e quindi mi fermo qui e magari apriamo il dibattito e poi avremo la possibilità anche in serie di replica di poterci confrontare. Grazie Presidente. Grazie a lei Ministro Fitto. Allora, io inizierei con gli interventi per poi dare la parola con conclusione al Ministro nuovamente. L'Onorevole Dell'Olio, prego. Grazie Presidente. Mi sono scritto tutte le domande in maniera tale da essere quanto più rapido possibile lasciare il testo agli altri. Dunque Ministro, con riferimento al credito d'imposta ZES, leggendo il testo del decreto, sembrerebbe che il nuovo credito assorba il vecchio credito d'imposta Mezzogiorno e il vecchio credito d'imposta ZES. Quindi, semplificando, il precedente credito ZES con i relativi massimali, condizioni di accesso migliorato poi dalla nuova Carta degli Aiuti di 2022-2027, ora viene esteso a tutto il territorio di Mezzogiorno, cioè la ZES unica. Però, contrariamente al passato, lei ha detto che l'entità del credito e soprattutto l'entità delle risorse non vengono estimate nel provvedimento, ma vengono rimesse a un successivo decreto ministeriale di due le sue competenze. Lei ci ha decitato poco fa la cifra di un miliardo comunque inizialmente. Ora, però, immagino che per assumersi questo onere, io immagino che lei abbia fatto delle valutazioni che però la relazione tecnica non espone in merito sia alla platea di riferimento e agli oneri connessi, soprattutto al fine di garantire tutte le imprese della ZES unica all'accesso alle misure. Quindi, le chiedo, prima domanda, se può fornirci, chiaramente se ce l'è adesso, altrimenti in separata sede, maggiori informazioni in merito alle quantificazioni, sia in termini di numero di aziende della vecchia e nuova platea e soprattutto delle risultanti risorse necessarie. Questa domanda, Ministro, nasce dal fatto che l'erogazione degli incentivi avverrà nei limiti di spesa che le fisserà con il provvedimento, trasformando quindi il credito l'imposta in una misura rubinetto. Quindi, conoscere la base quantitativa che l'ha fatta propendere per una decisione del genere è una cosa che ci farebbe comprendere meglio le motivazioni alle basi di questo decreto. Oltre a questi numeri, dunque, le chiedo, seconda domanda, se può precisare come penserà di gestire l'accesso al credito, visto che ha detto testuali parole che si devono sostenere le nostre piccole e medie imprese e anche questo aspetto è rimesso al decreto ministeriale, cosa pensa di fare al fine di garantire un'equilibrata partecipazione delle imprese, evitare che la gran parte delle risorse finiscono nelle tasche di pochi. E a questo punto, terza domanda connessa, come vedrebbe l'inserimento di una riserva di risorse per dimensione di imprese in favore chiaramente delle piccole imprese? Poi, ieri abbiamo ascoltato i vari commissari ZES e la percentuale di piccole imprese che si rivolgono loro sono in media intorno al 30-40% con punte nel 90% in Abruzzo. Questo importo minimo di 200.000 euro, che lei ha citato, poi compatibile con l'origine di minimis comunque, sembrerebbe essere molto alto considerato la dimensione minima del nostro tessuto imprenditoriale, specie perché comunque le ZES, indipendentemente da questo limite di credito imposto, possono dare l'autorizzazione unica a praticamente tutto dal chiosco di gelati alla gigafactory, che è stato detto ieri da un commissario ZES. Quindi si ampia, ampliando il territorio della ZES, si ampia il numero in valore assoluto di chiedenti con piccole dimensioni, presupponendo la stessa percentuale di partecipazione delle piccole imprese. Ora, a parte il fatto che ampliare questo meccanismo a un'area che è circa 500 volte più estesa dell'attuale, significa ampliare il carico di lavoro in maniera, direi, corposa, e a parte il fatto che portare tutto questo a Roma significa potenzialmente ingolfare le attività di questa struttura unica, anche perché la territorialità delle ZES imporrebbe una più opportuna maggiore vicinanza al territorio per la gestione. Cosa ne pensa, quarta domanda che è divisa in due, sia della possibilità di ridurre tale limite da 200.000 euro, a, dica lei quanto, anche se ha già detto che comunque era compatibile, ma soprattutto esiste una disponibilità da parte del suo ministero a valutare favorevolmente tale riduzione. Infine, ieri ma anche oggi sono state portate avanti, alla nostra attenzione, dei potenziali profili di incostituzionalità della norma sulle ZES, in quanto portando su Roma la gestione di fatto delle ZES, lo Stato avvocherebbe a sé una serie di competenze di legislazione e concorrenza dell'articolo 117. Immagino che al ministero, prima di variare la norma, abbiate considerato queste ipotesi. Quindi volevo capire, quinta e ultima domanda, quali considerazioni avete fatto, tanto da non considerare questo un problema. Se ritiene, le posso anche passare le cinque domande scritte per comodità per la risposta. Grazie mille. Grazie a lei, onorevole Dell'Olio. Onorevole Pagano, prego. Grazie Presidente. Noi ci siamo suddivisi gli ambiti di domanda in maniera tale da essere più puntuali. Allora, per quanto riguarda la questione zona economica speciale, ci pare di capire dalla lettura del decreto che scomparendo il beneficio Ires, cheppure diversi commissari ZES e governatori ci hanno rassegnato a essere una delle misure che più rappresentavano un incentivo, le uniche cose da un punto di vista finanziario che avrebbero una certa sostanza sarebbero quelle contenute all'articolo 16, assegnatamente il credito imposto a ZES. Ora, nel dossier predisposto dal servizio di bilancio della Camera, alla pagina 37, il servizio di bilancio dice che questa disciplina, questo articolo, avrebbe, presenterebbe diversi profili di criticità. In primo luogo non consente una verifica ex ante, come prescritto peraltro dall'articolo 17,1 della legge 196 del 2009, né l'ammontare degli oneri da esso derivanti, né quello relativo alla copertura finanziaria, estendendo il tutto a una determinazione fatta ex post per via amministrativa. Ora, dal punto di vista del funzionamento, tale meccanismo, che pur essendo previsto nell'ambito di un provvedimento connotato da straordinaria necessità d'urgenza, potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse dall'altro lato. In secondo luogo, il meccanismo previsto appare suscettibile di determinare uno slittamento della spesa in termini di fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione della disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio. Ora, vorrei comprendere, siccome il servizio di bilancio non penso che possa essere additato di essere di parte, come avete pensato di rispondere a questo rilievo che non ci sembra del tutto banale. E poi la ZES si caratterizzerebbe anche per una formulazione molto spinta rispetto alla semplificazione procedurale nel rilascio dell'autorizzazione unica. Ora, dalla lettura sempre del testo, a decoro del 1 gennaio 2024, tutte le pratiche autorizzative relative ai progetti inerenti alle attività economiche, ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive, logistiche, oggi gestite dai SUAP comunali, diventerebbero di competenza nazionale. Con la conseguenza che questa ha una portata estremamente impattante sui comuni che in realtà sono titolari delle funzioni amministrative in materia di attività e insediamenti produttivi. Ora, si osserva perché il territorio della zona economica speciale unica è un territorio 500 volte superiore rispetto all'attuale confermazione e perimetrazione delle otto ZES esistenti, un grandissimo numero di pratiche autorizzative, cosiddette minori, che oggi sono gestite abbastanza celermente, stante la tempistica registrata, con procedure consolidate a livello territoriale. Non pensa che questo, in maniera paradossale, anziché dare un incentivo allo sviluppo dell'attività economica possa rappresentare uno spaventoso collo di bottiglia? Grazie, onorevole Pagano. Onorevole Scerra, prego. Sì, grazie Presidente, Ministro. Allora, partiamo dal fondo di sviluppo e coesione. Fondo di sviluppo e coesione, oggi si individua un nuovo strumento di attuazione degli interventi dell'FSC 2021-2027 che è denominato accordo di coesione. Tutto quello che lei ha raccontato e che il decreto ci descrive mi sembra che vada un po' in contraddizione, ma mi corregga se sbaglio, con quella che è la dinamica invece che c'è all'interno del provvedimento che prevede l'autonomia differenziata. E anche con la dinamica che è prevista dalla stessa strategia di coesione, Ministro, perché la coesione prevede che i territori siano protagonisti, mentre c'è questo riaccentramento che va evidentemente in contrasto. Come pensate di poter portare avanti le due strategie? Da una parte l'autonomia differenziata, dall'altra parte un accentramento, praticamente lei sta accentrando su qualsiasi capitolo che riguarda il suo Ministero. Mi pare abbastanza evidente. Una criticità che le sollevo, c'è un definanziamento quasi automatico, almeno pare che ci sia un definanziamento automatico entro l'anno relativamente al meccanismo di assegnazione dei fondi di sviluppo e coesione. Se entro l'anno non si provvede a raggiungere i traguardi previsti c'è questo tipo di definanziamento. Magari se mi può spiegare bene come funziona, se è proprio l'anno, perché sembra che coincida l'anno di assegnazione delle risorse con l'anno di utilizzo delle spese, senza che si ammetta nessuno scostamento. Su questo se è possibile il Ministro se lo chiarisce, proprio per chiarezza. E poi un'altra preoccupazione riguardo al fondo di sviluppo e coesione è che si prendono dei fondi che provengono dal fondo di sviluppo e coesione e li si vogliono mettere per quei progetti per i quali c'era il piano nazionale di ripresa e residenza. Ma sappiamo che questi due fondi hanno delle caratteristiche completamente diverse. Il fondo di sviluppo e coesione ha un vincolo di destinazione territoriale con 80% sud e 20% nelle altre aree, mentre il PNRR come sappiamo aveva un 40% globale destinato al sud. Allora sembra anche in questo caso che a rimetterci se facciamo questo gioco delle tre carte sia sempre il sud, Ministro, perché se lei utilizza il fondo di sviluppo e coesione per quei progetti che già erano destinati al sud all'interno del PNRR così sembra che ci perde il sud e quindi è sempre un giochetto e le aree del mezzogiorno così sembrano pagare. Zessunica, lei la chiama Zessunica, però da quello che vedo Ministro io la chiamerei nuovo sussidio per il mezzogiorno, gli darei un altro nome, perché lei sta snaturando quello che è il concetto di Zess con questa nuova Zessunica, perché le Zess sono, almeno sono state concepite come delle aree delimitate, aree portuali e retroportuali che hanno l'obiettivo di fare di quella zona un hub logistico nel quale si favoriscono scambi commerciali e tramite il quale il Mediterraneo diventa un hub logistico all'interno appunto di tutto il Mediterraneo allargato e la Sicilia diventerebbe per esempio, io mi rivolgo alla Sicilia nella quale c'erano due porti core che erano il fulcro delle Zess, Augusta e Palermo. Ora pare che questa Zess non abbia più i cosiddetti porti, tenti come centrali all'interno della strategia, ammesso che ci sia una strategia. Quindi io penso, Ministro, che ci sia un concetto completamente diverso, sembra quasi che ci sia una modifica del credito d'imposta per il mezzogiorno e lo si trasformi in questo credito d'imposta per le Zess con delle caratteristiche diverse, perché ammetto che ci sono delle caratteristiche diverse, stiamo parlando di un massimale di 100 milioni che è quello delle Zess, stiamo parlando di un minimo di 200 mila euro come si diceva, sul quale anch'io ho le mie remore, però sembra che di quello si tratti, non si tratta, perché qual era il punto della Zess? Il punto della Zess era che colmava tutte le lacune che caratterizzano la possibilità di fare impresa all'interno del sud, quindi sburocratizzazione, quindi vantaggi fiscali, quindi logistica, quindi infrastrutture e questo lo si poteva fare in un territorio delimitato che poi contaminasse anche gli altri territori. Questa filosofia viene a mancare, perché lei sta dando un sussidio tutto il mezzogiorno nel quale io non vedo un piano di sviluppo industriale, dove è questo piano di sviluppo industriale? Prima domanda. Seconda domanda, le coperture finanziarie, si può sapere, lei sta rimandando a un decreto secondario, ci può dire in questa fase, penso che i conti l'avete fatti, questo credito d'imposta, per quanti miliardi di euro, se sono miliardi di euro o milioni di euro viene coperto, ce lo può dire, un miliardo di euro, un miliardo e mezzo, due miliardi, vogliamo sapere di quanto si tratta, perché ovvio in Sicilia orientale, guardo sempre quello perché è un esempio che conosco maggiormente, ci sono fatti degli investimenti per 300 milioni di euro sulla piccolissima zona delimitata. Ora, siccome si tratta di aree che sono 500 volte più grandi rispetto all'esempio che ho citato, è ovvio che io non mi aspetto che ci sia un 300 milioni moltiplicato per 500 come copertura finanziaria, è una copertura molto minore e questo significa che l'effetto della ZES, il potenziale di sviluppo della ZES verrà completamente diluito se lei allarga a tutto il meridione, a meno che non c'è una copertura finanziaria di 30 miliardi di euro e là possiamo anche parlarne. Su questo magari se mi dà una specifica e un numero Ministro, perché non avendo numeri non riusciamo veramente a capire di che entità e di che portata stiamo parlando. Grazie mille. Grazie onorevole Scher, onorevole Stefanazzi. Sì, grazie Presidente. Il Ministro Fitto nella sua relazione ha esordito accennando all'esigenza di effettuare, che il Decreto Sud sostanzialmente realizza l'obiettivo di coordinare la programmazione e quindi anche la successiva spesa. E in effetti, Ministro, le do atto del fatto che le audizioni, soprattutto quelle della giornata di oggi, hanno evidenziato da parte dei Presidenti e degli altri esponenti, delle rappresentanze degli enti pubblici, questa necessità di coordinamento. In realtà, Ministro, abbiamo l'impressione che il Decreto Sud sia invece un'attività di accentramento delle risorse e delle capacità, delle potenzialità di programmazione, non un coordinamento. Poi lei ha premesso che questa esigenza di coordinamento, accentramento, come la vogliamo chiamare, nasce dalla valutazione circa la capacità di spesa, correttamente detto non solo degli enti locali, ma anche dell'amministrazione centrale. Dopodiché però ci ha anche detto che il monitoraggio sui dati di spesa delle programmazioni precedenti a questa non è ancora concluso. Quindi mi chiedo come, e le chiedo come sia possibile, aver dato vita a un impianto come quello del DL Sud senza avere un'idea chiara di quello che è il profilo e il panorama della spesa e dei ritardi. Inoltre, e questa è la mia seconda domanda, a lei è noto, diciamo anche per le sue progresse esperienze da Presidente di Regione, quanto sia farraginoso il sistema di monitoraggio. Lei sa perfettamente, sono queste 53 voci scritte in un burocratese tremendo e non il mancato inserimento, anche il non corretto inserimento di una delle voci indicate comporta la scomparsa di quel progetto dal panorama della valutazione del suo stato di avanzamento indipendentemente dal fatto che quel progetto poi in realtà sia in uno stato di avanzamento effettivo o meno. Perché mi chiedo in questo lungo anno di attesa e di blocco della spesa, anziché smontare il sistema di assistenza delle amministrazioni locali, non avete provveduto a effettuare una precisa valutazione del livello di spesa dei fondi, soprattutto FSC. E inoltre avete preteso di migrare le informazioni relative ai sistemi di monitoraggio della penultima e dell'ultima ciclo di programmazione FAS più FSC sul nuovo sistema di monitoraggio. E questo, come è noto, sta creando problemi di conflitto anche appunto, fa dati che sono nati in maniera non omogenea. Domanda, perché avete dato vita a un sistema così farraginoso e quando ritenete che questo sistema sarà in grado finalmente di rendere evidente un dato che faccia giustizia eventualmente appunto dei dubbi che le è espresso a proposito della capacità di spesa. Peraltro le segnalo che tutti i presidenti di Regione Auditi, tutti, indipendentemente dal colore politico, hanno, probabilmente a questo punto mi viene da dire dichiarando il falso, esposto dei dati di spesa completamente diversi rispetto a quelli che in questi lunghi mesi sono stati dal suo ministero resi noti. Inoltre, sempre in tema di complessità e di difficoltà appunto di conciliare i dati, rispetto alla penultima programmazione, che come noto non aveva, non poteva generare i CUP sui progetti, perché appunto in quel periodo storico i CUP non esistevano, ma avete surrettiziamente attribuito ai progetti dei CUP, chiedendo poi all'amministrazione locale di valutarne, verificarne la congruenza. Anche in questo caso le chiedo quando questo ulteriore incomprensibile complicazione verrà risolta e quando quindi questo passaggio si completerà proprio per fornire un livello di, un dato comprensibile o sensibile circa la capacità di spesa degli enti pubblici e dell'amministrazione centrale. Infine, stamattina tutti i Presidenti di Regione hanno espresso una profonda preoccupazione per il sistema di monitoraggio e soprattutto sanzionatorio del DL Sud. Come noto, almeno per quello che leggiamo appunto nel testo, l'omessa o anche l'errata compilazione appunto della banca dati comporta un aggravio a valere sull'accordo di coesione che poi dovrebbe spingere la Regione a rivalersi sul soggetto beneficiario che appunto ha errato nell'inserimento dei dati. Perché, guardi, c'è questa peculiarità molto particolare, cioè le Regioni, come lei ha detto, si assumono la responsabilità una volta firmato l'accordo di coesione dell'attuazione. Dopodiché, come è noto, l'attuazione non spetta alle Regioni, spetta ai soggetti beneficiari e poi l'inserimento dei dati che determina il carico delle Regioni della sanzione spetta ai soggetti beneficiari. Ora, ricordo a me stesso che, almeno nello scorso ciclo di programmazione, c'è una giurisprudenza pressoché uniforme che fa soccombere le amministrazioni regionali nelle cause intentate dagli enti o dei soggetti beneficiari che erano stati definanziati e questo in un sistema in cui, come lei è noto, Ministro, il definanziamento poteva avvenire fino all'aggiudicazione della gara. Ora, mi chiedo, se questo contenzioso ha visto soccombere le amministrazioni regionali con quel tipo di termine, che cosa succederà adesso che è possibile definanziare anche dopo che è maturata l'OGV. Questo determinerà da un contenzioso infinito con un rischio che, alla fine, il cerino rimarrà in mano alle Regioni, alle quali probabilmente bisognerà spiegare che vanno incontro a degli inevitabili rischi di debito fuori bilancio. Grazie. Grazie a lei. Adesso la parola all'Onorevole Ottaviani. Prego. Eccoci. Quindi grazie Presidente, grazie al Ministro per questa opportunità per svolgere qualche riflessione in più rispetto al decreto. Quando si parla di Mezzogiorno di Sud, tutto quello che viene fuori è sicuramente da accettare e sicuramente da ulteriormente valorizzare. È necessario comunque effettuare qualche riflessione su quelli che possono essere degli effetti non previsti ma prevedibili rispetto ad alcune situazioni che poi non sono tanto locali, ma sono situazioni che si possono riverberare indirettamente anche su quello che è il complesso delle aziende strategiche del nostro Paese. Ieri nel corso della riunione, anzi nel corso della tunanza in Commissione sono state ascoltate alcune imprese importanti di riferimento per quanto riguarda l'economia del Paese e hanno insediamenti industriali all'interno di zone che si trovano direttamente a ridosso, immediatamente a ridosso di quella che è la perimetrazione effettuata. Ora comprendiamo, intuiamo che ci possano essere delle situazioni vincolanti o comunque delle situazioni non facilmente superabili per quanto riguarda il profilo della perimetrazione. Dobbiamo però prendere atto del fatto che due province che storicamente sono state il traino del Mezzogiorno sotto il punto di vista perlomeno del PIL, non stiamo parlando né di storia né di identità, ci mancherebbe altro, ma di PIL prodotto e di risorse utilizzate dalla vecchia cassa del Mezzogiorno e dalla vecchia Gen Sud e quindi ci stiamo riferendo alle province di Latina e Frosinone rimangono non solo estrane rispetto a questa perimetrazione, ma paradossalmente a seguito di questo provvedimento rischiano conseguenze notevoli, sia in via diretta che in via indiretta. Su queste province, al di là delle aziende che abbiamo ascoltato ieri, aziende che naturalmente sviluppano fatturati importanti anche in queste zone, ma in queste province insistono sostanzialmente anche altre aziende che fanno parte dell'indotto di quelli che sono i veicoli e i trainer fondamentali di questi asset produttivi. Facevamo riferimento ieri a Leonardo, Leonardo è presente su queste due province con tre grandi stabilimenti, ora è chiaro che Leonardo rientra all'interno di una situazione di tutela più ampia per cui di certo non stiamo portando avanti quello che è un DL Sud, un DL Mezzogiorno a favore di Leonardo. Il problema però qual è? È che mentre Leonardo non ha una ricaduta diretta sotto il punto di vista della mancata previsione dell'inserimento dei propri insediamenti all'interno della Zessunica, le aziende che producono per Leonardo, le aziende dell'indotto e il rapporto è quasi uno ad uno, ciò significa che su un euro prodotto abbiamo un euto di outsourcing che comunque proviene da tutto quello che attiene all'indotto, è chiaro che su queste aziende va a ricadere quello che può essere un profilo di diseconomia. A che cosa stiamo facendo riferimento? Tutta la fascia che ruota attorno al Basso Lazio rischia di essere attratta a sud da quella che è la regione Campania, ad est dal Molise e, situazione ancora più imbarazzante, Ministro, più a nord avremo l'Abruzzo, cioè paradossalmente noi avremmo una regione che ben venga, insomma viene sicuramente ulteriormente aiutata da questo decreto che è l'Abruzzo, ma è una regione che si trova circa 150-200 km, la parte più a nord dell'Abruzzo, rispetto a quella che è l'attuale localizzazione delle aziende che vivono nella fascia della provincia di Frosinone e della provincia di Latina. Non solo, ma a fronte di una possibile e posso evidenziarle, Ministro, già prospettata delocalizzazione di confine, perché le aziende che è chiaro che si trovano a pochi chilometri dal confine non hanno più interesse a rimanere all'interno di queste due province, lo varcano di pochi metri e entrano all'interno di tutte le provisioni ampie del decreto, a fronte di questa delocalizzazione, noi abbiamo che a nord di queste due province si estende la capitale, si estende non solo la capitale, ma l'area metropolitana romana che con tutte le previsioni che non stiamo qui a rappresentarle perché lei le conosce meglio di noi, alla fine hanno una capacità di attrazione in termini finanziaria e produttiva diversa rispetto a quella che rischia di essere una sorta di desertificazione a cui si rischia di andare incontro. Allora il tema che naturalmente le rimettiamo è un tema, Ministro, che riguarda la storia anche di queste due province e probabilmente di altre province laziali, io senza infingimenti la dico tutto, è chiaro che inserire il Lazio nella sua interezza all'interno di questa previsione al di là di quelli che possono essere dei profili di steccati europei può dare una non eccezionale immagine, se la volessimo dire tutta all'esterno, per dire ma il Lazio è mezzogiorno d'Italia, al di là di quelle che possono essere delle considerazioni di carattere storico o di carattere culturale, io non vedo poi tra l'altro quali dovrebbero essere questi problemi sotto il punto di vista di chi crede al profilo identitario, ci rendiamo conto che questo non inserimento tiene anche in considerazione una serie di altri fattori, ma se queste due province e probabilmente anche altre province del Lazio in realtà hanno una storia di 70 anni di Cassa del Mezzogiorno, una storia di 70 anni di Agensud, basti pensare che secondo alcune camere di commercio che si sono occupate anche di recente di verificare l'utilizzo di questi fondi, un terzo di tutta la Casmez è stata utilizzata per queste due province anche in modo positivo perché l'industrializzazione a cui sono arrivate in una fase che non è quella attuale ma è quella di 30 anni fa era sotto gli occhi di tutti e non a caso sono costretto a utilizzare l'imperfetto, allora il tema Ministro è questo, sviluppare una riflessione a tutto tondo per verificare che cosa è possibile fare o direttamente o indirettamente con l'utilizzo di strumenti diversi che possano compensare questo tipo di novità che rischia di essere un fattore importante di accelerazione, di delocalizzazione all'interno di queste due aree e probabilmente anche altre aree del Lazio che si troverebbero ad essere compresse rispetto ad altre perimetrazioni che in questo momento si stanno portando avanti. Grazie onorevole Ottaviani, l'ultimo intervento l'onorevole Saracino, prego. Grazie Presidente, anche alla luce le ultime considerazioni fatte e alla luce di tutte le audizioni che sono state fatte in questi giorni le criticità sono addirittura aumentate e non sono solo frutto di giudizi dati dai presidenti di regioni centrosinistra ma sono diciamo abbastanza trasversali, addirittura il presidente della regione Abruzzo che se non ricordo male essere iscritto allo stesso partito del Ministro ha parlato di pianificazione in stile semisovietico, cito, sul tema del definanziamento dei programmi di investimento finanziati con il fondo di coesione. Ma tre domande molto rapide. Zes, tutti gli auditi a cui abbiamo posto la seguente questione ci hanno detto che per quanto riguarda il credito d'imposta la cifra stanziata nella bozza che inizialmente era circolata sarebbe stata troppo bassa, era una cifra di circa 1,5 miliardi annui. Allora Ministro, visto che la cifra è scomparsa ed è rimandata a nuovo provvedimento, ci può dire più o meno su quale cifra state lavorando e quale sarà soprattutto la fonte di finanziamento? Seconda questione, lei più volte ha detto che appunto quando i fondi di coesione sostituiranno in molti casi i fondi del PNRR. Allora per quel che riguarda diciamo soprattutto il mezzogiorno c'è un meccanismo di garanzia che appunto possa garantire, mi scusi il gioco di parole, che venga rispettata la quota dell'80-20. E terza questione anche per rafforzare le cose che ha detto il collega Stefanazzi, lei ha detto che l'accordo della coesione nasce dalla considerazione sulle percentuali di spesa delle regioni. Cito, lei ha detto l'accordo di coesione dopo la verifica delle percentuali di spesa è obbligatorio, lei ha usato questa parola. Allora le chiedo, noi abbiamo chiesto questi dati alle regioni, qualcuno ci ha risposto, qualcuno non ci ha risposto, ma chi ci ha risposto ha dato dei dati di spesa altissimi, parliamo di 85, 90, 95%. Allora anche alla luce delle considerazioni che lei ha fatto parlando appunto di scelta obbligata, ci può fornire i dati in suo possesso regione per regione? Grazie. Grazie. L'ultimo intervento davvero è l'onorevole Carmina, grazie. Grazie Presidente. In generale volevo porre qualche domanda, a parte quella della eccessiva quanti... estensione dell'aria che rischia di creare un magma indistinto e la difficoltà di individuare e di realizzare soprattutto le necessarie opere infrastrutturali. Io vengo dalla Sicilia, non c'è bisogno che dica molto di più. Io temo che questa realizzazione di una ZES con un tale accentramento sia per certi versi in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione anche con gli articoli 117 che affidano per le regioni a statuto ordinario il governo del territorio e tutte le materie non espressamente individuate nell'articolo alla competenza legislativa e all'autonomia quindi delle varie regioni e in particolare per quel che riguarda le regioni a statuto speciale che godono di una competenza esclusiva nelle materie in particolare le regioni Sicilia, quelle previste dallo statuto, agricoltura, industria, commercio, pesca, turismo e nell'ambito di questa individuazione di ZES uniche e di cabina di regia e di struttura di missione mi pare che non sia data adeguata rilevanza e le attribuzioni di dovuta competenza agli enti locali. Addirittura intanto l'articolo 11 dice, definisce la politica di sviluppo della ZES unica quindi affida in realtà ad un organo accentrato tutta l'individuazione della politica di sviluppo e poi proprio nella gestione di questa ZES unica dice è facoltà di sentire gli enti locali. Io direi che è obbligo, possono essere uditi ma debbono essere sentiti perché si tratta poi di scelte che riguardano la vita stessa delle comunità. C'è poi la questione dell'aumento della capacità assunzionale. Io vorrei capire come ci si regoli per i comuni in dissesto se siano essi autorizzati ad assumere in deroga o no perché evidentemente e comunque i comuni in dissesto e in predissesto hanno dei vincoli precisi con riferimento alle possibilità assunzionali. Altra cosa per quel che riguarda gli interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa benvengano e tardi ci si è pensato a corrispondere un adeguato ristoro ai comuni che salvano l'onore e la dignità dell'Italia e dell'Europa intera in merito alla questione migranti si dice al fine di fronteggiare la grave situazione economica nell'isola di Lampedusa determinata sì a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo eccetera. Ma la grave situazione economica secondo voi è tutta la problematica sono limitata all'isola di Lampedusa e Linosa eventualmente rispetto a quanto successo o quanto accade il fenomeno migratorio. Non sarebbe ora che finalmente lo Stato riconoscesse il ruolo soprattutto di quei comuni. Stamattina c'era poi abbiamo dito il Presidente della Regione Calabria che diceva che anche in Calabria ci sono i comuni particolarmente afflitti ma evidentemente ci sono delle intere città noi abbiamo avuto io dico un'elemosina di 250.000 euro ai nove comuni più impattati dal fenomeno migratorio in Sicilia ma evidentemente già l'utilizzo del traghetto ordinario di linea per il trasbordo quotidiano dei migranti che ha impedito la normale mobilità dei cittadini e dei turisti. La diffusione di queste notizie che ha determinato un allentonamento dei flussi foristici della zona eccetera eccetera ha danneggiato non soltanto l'isola di Lampedusa che è protagonista assoluta ma anche altre comunità. In particolare Porta Empedocle fra l'altro oggi se ne parlava anche per la questione del rigassificatore come se dovesse salvare tutta l'Italia. Quindi chiedo se non sia da attenzionarsi anche altre realtà comunali che patiscono la stessa situazione o situazione analoga. Grazie Presidente, due domande molto puntuali. La prima è per ribadire la nostra grande preoccupazione rispetto a quanto emerso anche dai dati forniti dagli auditi rispetto all'utilizzo e alla spesa dei fondi FSC. Immaginare di coprire come solo nelle intenzioni è stato detto ma ancora oggi non è stato fatto il definanziamento di oltre 13 miliardi, quasi 14 miliardi di programmi già avviati nel PNRR con i fondi FSC pone un problema tecnico legato al rispetto dei parametri della distribuzione territoriale 80-20, lo pone per il mezzogiorno ma lo pone anche per le altre aree del Paese. Come pensate di risolvere o di affrontare questo problema? Soprattutto come pensate di affrontare il problema legato alla elegibilità di alcune spese con questi fondi? Sapete bene che le risorse avviate e i programmi di investimento avviati con fondi PNRR seguono una normativa e una procedura amministrativa accelerata e semplificata che rischia di non consentire di utilizzare i fondi FSC perché invece sono destinati a investimenti che devono essere predisposti e avviati con procedure amministrative differenti che non seguono l'accelerazione del PNRR. Quindi il tema che oggi poniamo è quello che migliaia di progetti lancia ieri a quantificati 42 mila rischiano di non essere finanziati più e rischiano di lasciare tante pubbliche amministrazioni, soprattutto comuni, a rischio default oltre che creare un danno economico drammatico e devastante nel nostro Paese. Ultima domanda sulle ZES. Lei sa meglio di me che i profili su cui istitutivi e caratterizzanti delle ZES sono tre. Semplificazioni amministrative e burocratiche, incentivi fiscali, investimenti infrastrutturali. Sulle semplificazioni amministrative e burocratiche mi pare che sia emerso in modo chiaro che a centrare a Roma una cabina di regia di 60 persone, l'autorizzazione di tutte le attività economiche, imprenditoriali, artigianali, anche di carattere ludico, sportivo, culturale, che si dovessero avviare nei prossimi anni al mezzogiorno è una cosa inverosimile e irrealizzabile. E emerge in modo evidente anche a chiunque, non a un tecnico necessariamente del settore. Come pensate di conciliare la semplificazione amministrativa con le complicazioni, con l'insabbiamento, i ritardi, il collo di bottiglia che si rischia di creare a Roma per queste autorizzazioni? Secondo aspetto, incentivi fiscali. Lei sa meglio di me anche lì che oltre al credito d'imposta che già era previsto e che resta semplicemente quello destinato al mezzogiorno, c'era un'altra misura fortemente incentivante e attrattiva per gli investimenti che era il dimezzamento dell'IRES. Per le nuove attività economiche che si aprono al mezzogiorno, per i sei successivi periodi di imposta, norma approvata dal governo Conte, ministro Gualtieri. Questo incentivo fiscale scompare. Si rende conto che in questo modo voi praticamente cancellate gli incentivi fiscali, l'incentivo fiscale più importante è le ZES. La ZES non ha più ragione di esistere, perché l'unica cosa che resta è il credito d'imposta che già oggi esiste per gli investimenti nel mezzogiorno. Non ci sono più incentivi fiscali ZES, che è l'unico davvero efficace, l'unico qualificante e caratterizzante del ZES. Oggi lo cancellate, a meno che non sia una nostra svista e saremmo felici di capire se così fosse e quali sono le fonti di finanziamento nel caso con le quali immaginate di coprire il dimezzamento dell'IRES per tutte le attività economiche che si aprono nei prossimi sei anni in tutto il mezzogiorno. L'ultimo e chiudo, ma come immaginate, chi si occuperà degli investimenti infrastrutturali, dei 630 milioni di euro di investimenti previsti nel PNRR che stavano seguendo da un punto di vista operativo i commissari ZES finora e che in alcune regioni erano in fase più avanzata, in altre stavano ovviamente prendendo il via. Chi le seguirà anche questi interventi infrastrutturali? La cabina di regia? Non è chiaro questo nel provvedimento e rischiano anche lì di bloccarsi investimenti infrastrutturali che sono decisivi per il rilancio del mezzogiorno. Noi siamo molto molto preoccupati. Grazie. Grazie, onorevole De Luca. La parola al Ministro Fritto. Grazie. La filosofia del provvedimento nasce invece dalla forte preoccupazione che noi avevamo rispetto ai risultati che ci sono perché questo è un dibattito un po' anche come quello precedente sul PNRR in generale. Noi ci preoccupiamo dei rischi futuri come se la situazione esistente fosse una situazione perfetta dove tutto funziona con risultati e numeri eccellenti e quindi non abbiamo nessun tipo di preoccupazione. Io mi permetto di inserire degli elementi di valutazione su dati oggettivi, non su considerazioni campate in aria. Lo dico perché anche rispetto al tema del PNRR che è stato richiamato da più parti, la rappresentazione in alcuni casi è come se ci fosse qualcuno, io o qualcun altro, che ha deciso di immaginare di spostare i progetti. Perché? Così, siccome non aveva il tempo da dedicare ad altro, ha deciso di spostare questi progetti e ignoriamo invece alcune considerazioni, cioè la prima è quella collegata al fatto che molti di questi progetti non sono ammissibili. Ieri Lancia ha citato, perché adesso tornerò anche su una serie di questioni fatte, perché le audizioni le ho seguite tutte, direttamente o indirettamente, quindi ho ascoltato abbastanza bene tutti gli interventi su questo, sono nelle condizioni anche di replicare. Lancia ha parlato di 42.000 progetti. Allora, noi cosa proponiamo sul PNRR da spostare su altri programmi? Proponiamo alcune misure, ne cito una perché il dato per Lancia è anche più alto, non sono 42.000. C'è una misura che copre 6 miliardi dei 13 di cui noi ci occupiamo quando parliamo di spostamento del PNRR, di cui nessuno vuole parlare nel merito. Sono progetti finanziati nel 2019, sono circa 40.000 progetti, 39.900 euro. Il 75% di questi progetti è sotto i 100.000 euro. Non hanno lontanamente un margine di ammissibilità rispetto ai criteri di ammissibilità previsti del PNRR. Un miliardo di questi 6 miliardi sono per interventi di viabilità, quindi con certezza non sono ammissibili, questo è un dato di fatto oggettivo che la viabilità non è ammissibile al PNRR. Allora, questo è un primo intervento che noi chiediamo di spostare al PNRR. Dovremmo lasciarlo per ritrovarci tra un anno nella situazione dello stadio di Firenze e di Venezia, non sapendo come trovare le risorse e come riuscire a poi a dare una risposta rispetto ai criteri di ammissibilità, di rendicontabilità e tutto quello che noi sappiamo? I piani urbani integrati, così come i progetti di rigenerazione urbana, piani urbani integrati e due piani urbani integrati sono Firenze e Venezia. Sono due piani urbani integrati, non è che sono due interventi calati chissà da dove, lo stadio di Firenze e lo stadio di Venezia sono due piani urbani integrati. I programmi di rigenerazione urbana sono progetti del 2020 dal punto di vista dei criteri di ammissibilità e della tempistica perché c'è un altro elemento che io capisco nelle considerazioni, viene ogni volta richiamato come un dettaglio quasi non citato, ma se a giugno del 2026 io ho il dovere di ripeterlo centinaia di volte, questi interventi non sono collaudati, noi abbiamo tre risultati, il primo che viene revocato, il secondo che noi raggiungiamo l'obiettivo che ci consente di prendere la data e il terzo che avendo contratto un'obbligazione giuridicamente vincolante nel frattempo, non è che diciamo ad un intervento che è all'80% o al 90% sai che c'è di nuovo, non ci interessa, no dobbiamo trovare nel bilancio dello Stato le risorse per fare questo tipo di intervento, questo è il meccanismo di cui noi ci occupiamo, quindi non è che c'è la volontà perché c'è l'impazzimento di qualcuno di dire spostiamo questi progetti, c'è un dato oggettivo e nei prossimi giorni entreremo nel dettaglio della verifica di questi progetti perché penso che sia utile farlo portando tutti questi elementi e andando a verificare nello specifico le cose come stanno, anche per esempio e chiudo su questa parentesi, sul tema del dissesto idrogeologico dove ci sono interventi del 2010, del 2012, del 2014, del 2016 che sono proposti come finanziamento all'interno del PNRR, ne vogliamo parlare? Allora io diciamo sinceramente il tema delle modalità con le quali noi proponiamo alla Commissione europea, quindi non stiamo definanziando, proponiamo di spostare perché il decreto che finanzia agli interventi del PNRR non è stato modificato su nessuna parte, quindi le risorse sono attribuite e gli interventi vanno avanti. Quello che noi presentiamo alla Commissione europea è una proposta per spostare questi interventi che hanno queste evidenti criticità e per metterli su altri programmi di intervento, sapendo che il PNRR deve garantire la percentuale del 40% degli interventi per il mezzogiorno e che sull'FSC ci deve essere il rapporto 80-20. Sarebbe facile per me tornare indietro rispetto al tema dell'80-20 sull'FSC, perché la preoccupazione che oggi viene evidenziata come rischio futuro e che non avverrà è una certezza rispetto a quello che è accaduto precedentemente, perché il FOI, gli interventi per finanziare le imprese sull'aumento del costo delle materie prime, è stato finanziato per intero con il Fondo di sviluppo e coesione per 6 miliardi. Eppure rispetto a un fatto non ho ascoltato delle dichiarazioni di questo tipo, quindi oggi invece noi evidenziamo e avvaloriamo delle dichiarazioni sul potenziale rischio che tutto va a dimostrare a fronte di dati di fatto certi che ci sono, che sono inseriti nelle leggi di bilancio che ci lasciamo alle spalle, che sono un fatto non una ipotesi. E questo penso che sia un altro elemento che debba essere tenuto nella debita considerazione, così come provo a dire che i Presidenti di Regione, tutti i Presidenti di Regione, è una considerazione generosa per consolidare delle posizioni perché non è stato così, diciamo alcuni Presidenti di Regione, però vorrei anche su questo fare alcuni riferimenti. Noi abbiamo fatto un monitoraggio in base allo studio predisposto con i dati finali della ragioneria generale dello Stato, che magari non saranno veritieri, per carità è possibile, però anche a chi sostiene il contrario io sarei lieto, inverto il ragionamento, non datemi i dati, perché i dati che do io sono quelli della ragioneria generale dello Stato, è facile. E ci sono per ogni programma, adesso entro nel merito anche di questo, perché si fa una confusione voluta, che mette insieme l'FSC con la coesione, che sono due cose separate, e che invece noi stiamo ragionando in ottica di programmazione per fare delle scelte comuni, ma invece volutamente in base alla discussione noi enfatizziamo un dato e ne nascondiamo un altro, invece parliamo di tutti i dati, perché c'è il tema della coesione, dove sento numeri altissimi e meno male, dico io, perché parliamo della quota del 50% dell'intero programma di risorse europee, che devono essere spese entro il 31 dicembre di quest'anno relativamente al programma 2014-2020, ma non parliamo delle quote di cofinanziamento, che invece non hanno avuto questa capacità di spesa, così come non hanno avuto l'FSC 14-20. Allora quando noi diciamo l'80 e il 90 e parliamo del 50% della coesione, senza parlare dell'FSC, che è un'altra cosa ancora, e ne parliamo di questo facendo un riferimento esclusivamente alla quota europea. Vi permetto di dare due indicazioni quando parliamo del 50% della quota europea, che quelle risorse non sono state spese tutte al 31 dicembre così come auspicabilmente viene sostenuto, ma sono risorse all'interno delle quali ci sono numerosi progetti sponda, legittimi per carità, ma ricordiamo cosa vuol dire il progetto sponda. Io presento un progetto realizzato con un altro finanziamento, incasso delle risorse, ma non ho realizzato l'intervento. Ed è il motivo per il quale noi nel decreto governance che abbiamo approvato qualche mese fa abbiamo previsto ad un articolo la possibilità che queste risorse vadano in un fondo unico nazionale che garantisca la territorialità, in base alla regione dalla quale vengono lì e devono tornare, e la settorialità, in base al progetto rendi contato, quel tipo di intervento deve essere realizzato. Però è anche bene ricordare che sulle risorse del 50% per le quali diciamo che c'è l'80% e il 90% delle risorse spese, dentro ci sono oltre ai progetti sponda anche le misure del Covid, ricordiamocelo, perché se noi dovessimo estrapolare i 13-14 miliardi di risorse spese autorizzate in questa direzione, quella percentuale diventa ancora più piccola rispetto alle finalità degli interventi. Ma non parliamo della quota di cofinanziamento nazionale, non parliamo della quota di cofinanziamento regionale e non parliamo della quota dell'FSC. Cosa stiamo facendo noi su questo? Noi stiamo mettendo in campo un'azione che non è quella che viene rappresentata, anche perché abbiamo un tavolo, l'ho detto prima, con ogni singola regione e quella è la sede e il luogo per dimostrare i numeri che invece spesso ascoltiamo nelle dichiarazioni, peraltro in alcuni casi anche colorite, a me fanno anche simpatia, devo dire, anche quelle nei miei confronti, devo dire, sono anche apprezzabili da punto di vista ironico del dibattito politico, ma sono prive di contesto e di adeguatezza da punto di vista dei dati, quindi io sarei ben lieto più che con una battuta di essere contestato con un numero, perché il mestiere che noi ci dovremmo fare in questo periodo protempore è più collegato ai numeri, quindi magari un tema o una battuta solleva un dibattito e allontana il merito delle questioni, invece sarebbe opportuno avere dei numeri e c'è un tavolo per poterlo fare, che è quello che stanno facendo tutte le regioni italiane, perché come ha fatto la Liguria che ha sottoscritto, nei prossimi giorni vedete che tante regioni arriveranno a definire il percorso che ho ascoltato, non va bene, è stato contestato, che invece prevede la definizione di tutto ciò che riguarda il 2014-2020, la sottoscrizione dell'accordo di coesione per il 2021-2027, con questo meccanismo che, lo diceva forse l'onorevole Sherra, per dare una contraddizione nell'azione del governo rispetto all'autonomia, invece che rafforza il concetto dell'autonomia, invece proprio le dico una risposta opposta, perché inserisce l'elemento della responsabilizzazione, che è un elemento fondamentale, soprattutto nel mezzogiorno in Italia, glielo dico da meridionale, perché c'è l'esigenza di invertire un meccanismo, che non è quello di avere le risorse e poi si pensa, ma di avere invece una definizione degli interventi, un cronoprogramma di realizzazione e anche la previsione del definanziamento, che non nasce casualmente, perché all'interno dell'accordo c'è la regione che propone e sottoscrive l'intesa con il governo, quindi c'è una corresponsabilità nella quale ci si impegna comunemente a realizzare quell'intervento, lo facciamo rispetto anche a un percorso che al netto delle valutazioni che si faranno, perché è chiaro che ci sono fattori esterni che sono oggettivi rispetto a questo, ne abbiamo avuti negli anni diversi, dal Covid alla guerra sono dati oggettivi, l'aumento del costo delle matrici, se succedono fattori che giustificano oggettivamente o anche elementi amministrativi che caratterizzano negativamente un intervento, è evidente che non c'è chi ragiona con l'idea di revocarlo, ma il criterio, il principio, l'impostazione, la novità forte è quella di mettere in campo un meccanismo nel quale si avvia il processo di responsabilizzazione nell'utilizzo di queste risorse. Io sono convinto che questo meccanismo sia un meccanismo molto positivo che metteremo in campo anche nei confronti delle regioni e delle amministrazioni centrali, perché il lavoro che stiamo facendo, l'ho già detto, lo ribadisco, è fatto nei confronti, c'è il tavolo con la singola regione, ma c'è il tavolo anche col ministero che sta verificando lo stato dell'arte delle risorse spese o non spese negli anni, ci sono alcune situazioni, anche i ministeri che sono molto preoccupanti, anche se i dati sono concatenati, perché poi magari alcune voci riguardano tanto l'amministrazione centrale quanto avendo assegnato l'amministrazione centrale a livello periferico delle risorse, il dato riguarda e incrocia un po' i diversi livelli istituzionali, però anche su questo penso che sia interesse di tutti avere un meccanismo di funzionamento e di capacità di spesa e di efficacia nella spesa nell'uso delle risorse, quindi non è che stiamo proponendo uno schema che è contro qualcuno o contro alcune istituzioni, è uno schema che è stato definito, avallato e condiviso, anche qui lo voglio dire col massimo rispetto perché io non sono abituato a scendere in polemiche, risse e non mi riferisco ai presenti evidentemente, ma il tema è un altro, noi stiamo proponendo un percorso che ha avuto dei passaggi nella conferenza Stato-Regioni, al CIPES, in cabina di regia, ma io in tutti questi passaggi non ho ascoltato un intervento contrario o una dichiarazione contraria. Poi invece nell'ambito del dibattito politico sviluppiamo un sollevamento popolare di polemiche, ma mi sembra che ci siano le sedi competenti dove andare magari più che a dire alcune cose a sostenere dei principi specifici con delle note, degli elementi, delle questioni che potrebbero, se corroborate dai contenuti, mettere in difficoltà il governo rispetto alle questioni di cui oggi noi ci occupiamo. Questo è un tema molto importante che io mi permetto di sottolineare. All'onorevole Ottaviani dico, è un tema che mi è stato sollevato da altre persone, noi abbiamo la carta del regime di aiuti, abbiamo definito un percorso con la Commissione Europea, prima che lei arrivasse ho anche fatto un passaggio di questo tipo. Ci può essere un problema per alcuni territori, il tema della indemnizzazione non è determinato da un criterio di scelta, è un criterio oggettivo che ha visto anche un passaggio, una notifica del provvedimento, un'autorizzazione in questa direzione che consente di poter utilizzare in quell'ambito e quindi diventa complicato e comunque avremo sempre un confine. Facciamo per un momento, lo dicevo prima e lo voglio ripetere alla sua presenza, se noi per un momento ci sforzassimo di dire bene, e non è possibile, facciamo un allargamento, ci sarà la provincia che passa al confine e che porrà la stessa questione. Voglio dire che lo sforzo che si sta mettendo in campo riguarda un'area geografica che è delimitata dalle politiche di coesione, dai criteri previsti alla carta del regime di aiuti, cioè da una serie di questioni che rendono quell'area compatibile con lo sforzo che abbiamo costruito. E chiaramente questo è un tema che mi rendo conto pone degli altri problemi per altri territori sui quali bisognerà interrogarsi, questo sì, su come riuscire ad affrontare determinate scelte e come immaginare delle soluzioni che possano in alcune aree che vivono questa possibile limitazione determinare degli interventi mirati che possano guardare con maggiore attenzione in una sintonia con i diversi livelli istituzionali anche rispetto alle scelte che possono essere portate avanti in questa direzione. Vorrei anche fare un riferimento al tema che è stato indicato rispetto alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di sviluppo e coesione perché, come dicevo, noi abbiamo approvato in alcune sedi i passaggi. Al CIPES noi abbiamo fatto una riunione nella quale tutti i presidenti di regione erano presenti e abbiamo determinato la delibera con la quale abbiamo fatto un riparto fra tutte le regioni. E quindi non è che noi ce lo siamo sognato, poi abbiamo avviato il percorso dell'accordo di coesione e poi li eroghiamo, l'ho spiegato prima, l'onorevole De Luca non era, lo ripeto, perché c'è l'imputazione della delibera CIPES, poi c'è la sottoscrizione dell'accordo di coesione che non piace perché, mi rendo conto, non consente di avere l'assegno in bianco e di fare quello che uno immagina di poter fare senza alcuna limitazione. Invece in questo caso si fa un elenco di interventi e bisogna condividerli con il governo che non ha un obbligo ma compie una scelta nel dare queste risorse, perché non c'è nessuna norma che spiega che queste risorse vadano date per esempio alle regioni, c'è una scelta consolidata che questo governo ha confermato di dare queste risorse alle regioni, anche questo è un tema e non sono poche risorse perché i programmi proprio in virtù della logica dell'80-20 in alcune aree territoriali assumono una dimensione di diversi miliardi di euro sull'FSC che sommati alla politica della coesione diventano il doppio e che in aggiunta delle risorse del PNRR fanno un ammontare di cifra che è sicuramente enorme sotto tutti i punti di vista e allora non sono troppi, però magari è meglio evitare di avere tanti soldi sulla carta senza riuscire a spenderli come è accaduto fino ad oggi, piaccia o non piaccia e invece immaginare di riuscire a spenderli come è necessario fare per queste aree, questo è il tema e questo lo porteremo avanti e se io avrò la possibilità di essere smentito con dei dati migliori di quelli della ragioneria generale dello Stato io sono ben lieto di accoglierli e quindi di prenderne atto senza alcun tipo di difficoltà. Tutto il tema collegato alla zona economica speciale a partire dall'IRES, dalla sua previsione che è stata fatta con leggi di bilancio del 2021 è collegata alla quantificazione del gettito potenziale in meno perché è chiaro che il tema dell'IRES un conto è avviarla in otto piccole aree, un conto è avviarla su tutto il mezzogiorno d'Italia e questo lo dico anche soprattutto per un altro aspetto molto importante che è quello evidentemente legato a tutte le misure compreso il credito che sono d'imposta che sono a rubinetto e queste vanno quantificate esattamente con lo stesso meccanismo che è stato utilizzato precedentemente e anche rispetto alle osservazioni dell'ufficio studi penso che il ministero competente risponderà nel dettaglio le valutazioni saranno fatte in funzione del fatto che il 2023 non comporta una spesa su questo perché il provvedimento interverrà dal primo gennaio del 2024, questo è evidente quindi sarà quello il momento nel quale andremo a fare questa quantificazione non ci può essere un importo in questo momento perché è una misura a sportello che sarà comunque quantificato e soprattutto sarà fatto il lavoro che è stato fatto anche precedentemente perché noi dobbiamo ricordare che è stato finanziato con l'FSC prima il credito di imposta dobbiamo ricordarlo questo perché non vorrei che oggi si chiedesse di fare delle cose che magari in passato non solo non si sono fatte ma si è fatto esattamente il contrario quindi anche questo penso che ricollegare i vari passaggi aiuti un po' tutti a definire bene il percorso che si porta avanti. Il tema dei richiami costituzionali sinceramente non solo non lo vediamo, non lo intravediamo, non fosse altro perché i commissari oggi sono nominati dal governo e tutto il percorso messo in campo è tutto un percorso nazionale e questi problemi non sono stati sollevati fino ad oggi. Quindi sarebbe singolare che a fronte di provvedimenti per i quali l'atteggiamento è stato di un tipo fino ad oggi perché magari c'era un approccio diverso, oggi si dovesse sollevare un tema che dal mio punto di vista dal nostro punto di vista opportunamente verificato non coglie alcun rischio di incostituzionalità sotto nessun punto di vista e questo lo voglio sottolineare in modo dettagliato. Chiudo con una considerazione finale, penso di aver più o meno risposto a tutte le sollecitazioni che è quella collegata al tema dell'accentramento. Vedete, io non immagino, a prescindere dalla condivisione o meno, questo è un punto di partenza diverso, sulla zona economica speciale unica o meno, io non vedo una soluzione diversa nella gestione di un territorio di otto regioni che supera i 2.500 comuni. Ascolto molte critiche analoghe a quelle dell'avvio della nuova governance sulla coesione sul piano nazionale di ripresa e resilienza, legittime, però io rivendico con forza non solamente la validità di quella scelta ma anche i risultati che proprio su quel terreno la struttura individuata sta dando. Sapete che c'è il tema collegato allo sportello unico sul territorio della zona economica speciale, quindi dobbiamo anche uscire un po' dalla logica nella quale la territorialità rappresenta cosa? Dobbiamo invece semplificare ed evitare che ci sia l'idea di una territorialità fatta dal contatto, invece dobbiamo mettere in campo sistemi di automatismo che siano in grado di poter funzionare a prescindere da questa territorialità, mettere un qualcosa che funziona bene per tutti, non un qualcosa che possa funzionare in modo specifico per qualcuno. Questo è un po' un tema e un concetto che secondo me è molto importante mettere in campo e che io sono convinto possa rappresentare un'opportunità anche rispetto alla strutturazione della governance della zona economica speciale. L'onorevole dell'olio alcune risposte le ho date però ho avuto il garbo di consegnarmi delle risposte, le assicuro che le farò delle domande, scusi, le farò delle risposte puntuali e precise così come mi ha indicato. Grazie. Grazie al Ministro per il contributo che ha voluto darci. La seduta è chiusa. Grazie.